E' chiaro che negli ultimi vent'anni il governo russo, e questo risulta da amplissime ricostruzioni internazionali, ha effettuato una sistematica opera di corruzione nel settore degli affari, nel settore della stampa, nel settore della politica, in tanti settori, in molti paesi europei e negli Stati Uniti. Così parlava Mario Draghi, salve amici e amiche, oggi mettetevi comodi perché quello che dirò probabilmente non vi piacerà o vi turberà, a seconda delle sensibilità. E se per qualche motivo dovessi sparire o dovesse capitarmi qualcosa, potete segnare questa data come il giorno in cui ho pubblicato un video scomodo, in cui ho detto, ho parlato di quello di cui non dovevo parlare. Ma comunque, cari amici, prima di iniziare, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e già che ci siete, lasciate un mi piace. Allora, diciamo che non ci tengo a fare la parte del martire e nemmeno vorrei arrivare a fare richieste di scorta. Quindi, prima di parlare dell'argomento di oggi, faccio un'enorme premessa, ok? Seguitemi nel ragionamento. Immaginiamo di trovarci tutti quanti al bar, ok? Ci sediamo e ordiniamo un caffè, una birra, come preferite. Quello che volete, insomma. Qualcuno di voi tira fuori un mazzo di carte napoletane e fra una battuta di spirito e l'altra iniziamo a chiacchierare e come si dice, no? A fare discorsi da bar. Nessuna prova concreta, discorsi campati per aria, nessun argomento troppo serio, ma a un certo punto, ecco, l'argomento un po' più serio viene messo sul tavolo e ve lo pongo io. Secondo voi, gli italiani sono brava gente? Secondo voi, l'Italia è un paese che fa parte della Nato e che quindi supporta l'Ucraina? No, perché, no? Capiamoci, in televisione e sui giornali siamo pieni di uffici stampa e giornalisti che fanno discorsi un tantino pro-Russia e continuano a passare le veline del Cremlino come notizie accreditate. Alla fine, no, non vi siete chiesti perché ci sono così tanti filorussi nel nostro paese. Perché poi così tanti gruppi politici, sia di destra che di sinistra, dicono che sia sbagliato mandare armi in Ucraina? Che non è questa la via, insomma. Perché anche quelli che dovrebbero avere le idee chiare su questo conflitto sembrano sempre dubbiosi, tentennare, supposizioni incerte? Bene, se vi sembrano tante domande strane, sappiate che la risposta a tutte queste domande è solo una, o meglio, irresponsabile, come vogliamo chiamarlo. Quella cosa che in Italia smuove le montagne, promuove progetti di ponti sugli stretti o è capace di spaccare in due le famiglie, per esempio, regalarti un paio di scarpe di cemento, far costruire palazzi sulla costa e cliniche private, regalare macchinoni alle amanti e via discorrendo, no? Non si è capito? Ok, lo so, ora penserete che sto dicendo un'ovvietà, ed è vero alla fine. Ho appena premesso che oggi faremo discorsi da bar. Ma ecco, fra una briscola e una birra, sul tavolo metto questo articolo, scritto da Robin Brooks, che non è un tizio qualsiasi, non è imparentato comunque con il regista e comico americano. In realtà è un pezzo grosso dell'economia mondiale, dato che è amministratore delegato e capo economista dell'Istituto Internazionale per l'Economia, e con un curriculum grosso così, e fra l'altro è anche uno dei massimi esperti di macroeconomie e di previsioni internazionali. Beh, da questa paginetta cosa vediamo? che l'Italia è il paese dei balocchi, o la terra dei cachi, a seconda di come la vogliamo vedere. Che la nostra cara Presidente del Consiglio fa bene a dire che l'economia italiana cresce. Perché è vero, stiamo andando alla grande, è proprio vero. Abbiamo avuto un colpo di fortuna, direi, esattamente due anni fa, perché all'improvviso l'Italia ha trovato un partner internazionale con cui le esportazioni sono cresciute del 178% nel 2022 e un anno dopo del 409% nel 2023. Ma non è meraviglioso, quindi chissà come stanno andando oggi nel 2024. Ora, non voglio tirarle per le lunghe, perché, insomma, questo benefattore misterioso che compra tutto dall'Italia, chissà mai, secondo voi, e ve lo dico, non è niente di meno che il magnifico Kirzikistan. Poco più di 6 milioni di abitanti. Un paese rurale, con qualche miniera di carbone, oro, uranio, ma per lo più produce lana, carne e pelli. L'agricoltura occupa il 52% del PIL con allevamenti di cavalli, pecore e bovini, cotone, riso, cereali, ortaggi e frutta. Insomma, è un paese di quelle regioni lì, molto povere, però, insomma, compra veramente di tutto da noi. Sono, penso, i più nostri grandi fan. È interessato soprattutto ai nostri pezzi forti, le cose migliori che produciamo, qui come macchinari e apparecchiature, con un incremento delle esportazioni del 500% in due anni. Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, mezzi da trasporto, come navi, imbarcazioni, locomotive, materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari, si riferisce a componenti, ovviamente anche, computer e prodotti di elettronica, ottiche, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione, e orologi, tutta componentistica raffinata di alta tecnologia. E poi anche prodotti dell'industria pesante, materiali raffinati, chimici, gomma, materiali in gomma, materiali plastiche e mobili. E poi anche i mobili, sì, perché hanno la passione per il design italiano in Kyrgyzikistan. Tutte queste cose, come vediamo, nei vari rapporti, perché non ce n'è solo uno, c'è anche quello del Ministero dell'Interno, e poi tanti siti esterni di analisi di scambi internazionali, che sono pubblici, tutte queste cose hanno avuto un incremento dal 100 al 400% in due anni, ma è sorprendente! E cosa ci ripaga? In cosa consiste? Perché è uno scambio, no? Cioè, come ci paga il Kyrgyzikistan? Indovinate un po'? In oro, la moneta migliore del mondo, quella sì, che non si svaluta mai. A questo punto uno direbbe, ma tutto questo è straordinario, ma che fortuna che il Kyrgyzikistan compra tutto quanto da noi a peso d'oro. E con tutto quest'oro la nostra economia diventerà più forte, è chiaro, no? E' chiaro che nel frattempo è uno scambio equo, loro diventeranno un paese civile e moderno, contenti tutti, no? In questi due anni, quindi, di sicuro, con tutta questa roba che è arrivata dall'Italia, il Kyrgyzikistan si sarà trasformato in un paese moderno, come minimo, dove la gente si veste armani, ha le cucine di stile, e va in giro in Ferrari, come minimo, no? Infatti, in questa foto vediamo proprio la classica classe dirigente Kyrgyzikistana, questo gruppo di signori è evidente che vanno in giro in Ferrari e vestono alla moda. No, comunque, ecco, la nostra cara amata Italia alla fine, però, diciamolo, non è l'unica a fare scambi con il Kyrgyzikistana, perché il Kyrgyzikistana non solo vuole i nostri prodotti, ma vuole anche quelli tedeschi, quindi, se compariamo i grafici di esportazione in questi due anni, Italia e Germania vanno veramente forte, ma alla grande, quindi, cosa sta succedendo allora? Vi leggo questo trafiletto. Come mai? Come mai c'è stato questo boom economico in Kyrgyzikistan che è interessato solo e esclusivamente ai prodotti italiani e tedeschi? Come mai ha interessato solo gli abitanti del Kyrgyzikistan? C'è un nuovo amore verso i beni di consumo, soprattutto capi di abbigliamento, mobili, pellami, ma anche macchinari industriali e pezzi di elettronica europei? Cosa c'entra questa storia col Kyrgyzikistan? Beh, c'entra perché, secondo gli analisti dell'intelligenza degli Stati Uniti, il Kyrgyzikistan, come anche l'Armenia, le Maldive, il Marocco e l'India è uno di quei paesi che triangola con la Russia. Beh, al momento per le aziende occidentali è vietato per via delle sanzioni internazionali commerciare con Mosca e questo in teoria dovrebbe essere il motivo che dovrebbe paralizzare l'economia russa e creare enormi problemi alla loro produzione bellica ma, come devo dire, no? L'altra faccia della medaglia è che toglie anche l'azienda europea e dei veri asset strategici. Ora, secondo il Financial Times gli scambi verso la Russia che passano dal Kyrgyzikistan sono alla base di una nuova primavera economica nella piccola repubblica ex sovietica. Il PIL nel 2022 è cresciuto del 13%, una cifra record ma non è un caso isolato. In Armenia dal 21 l'Italia esportava più o meno 155 milioni di dollari di merce. Nel 2022 questa cifra si è moltiplicata 285 milioni. Insomma, c'è un passaggio per arrivare a Mosca se si vuole viaggiare verso Mosca partendo da Roma. Perciò, cari amici, questa è la situazione. Ora vi ripongo le domande che ho fatto all'inizio del video. Perché i politici italiani fanno tante storie quando si parla della Russia? Perché non prendono posizioni chiare quando si parla di inviare armi all'Ucraina? Come fa per esempio altri paesi che hanno le idee un po' più chiare come la Danimarca, la Svezia, la Polonia? Perché i telegiornali, le televisioni, gli uffici stampa ci propongono sempre il minimo sindacale quando si parla del conflitto? E perché ci sono giornalisti che sono più filorussi degli stessi russi? Io non lo so. Fatevi due conti. Oggi mentre pranzavo ho visto un telegiornale una delle poche volte. Non vi dico quale, su quale canale perché alla fine non importa. hanno parlato del conflitto in Ucraina passando che cosa? Ma certo, le dichiarazioni di Putin che ha detto testualmente le forze armate russe stanno respingendo indietro gli ucraini nella regione del Donbass. Ovviamente non è vero. È vero che ieri i russi hanno lanciato degli attacchi pesanti di artiglieria ma gli ucraini stanno ancora lì. Non si sono spostati di una virgola. poi sempre secondo Putin gli ucraini hanno fatto l'errore più clamoroso a invadere la Russia perché nel frattempo hanno tolto risorse dal Donbass e quindi la Russia ci può sguazzare e conquistarlo in due giorni. Ovviamente non è vero perché ormai da tre giorni non guadagnano più un metro di terreno anzi lo stanno riperdendo. In questi due giorni l'esercito russo ha perso qualcosa come 5.000 uomini e 200 mezzi fra carri armati e mezzi blindati. Quindi questa è la situazione. Il telegiornale poi devo dirlo ha dato spazio anche alla voce del presidente Zelensky per la regola come si dice della par condicio ma ecco non ha parlato di notizie sul campo ovviamente ha fornito le notizie sul campo solo da parte russa le vere notizie sul campo ve lo ho appena detto io e mentre gli italiani brava gente fanno affari con la Russia permettendogli così di costruire carri armati missili e continuare questa guerra perché quindi mandare armi all'Ucraina no? Non conviene? Conviene invece che la guerra continui cioè più continua più si fanno affari è ovvio così nel frattempo il comenda può farsi il ferrarino lo yacht comprare finalmente la villetta con piscina in costiera beh mica sono problemi miei se gli ucraini non si arrendono o no del resto no? che stupidi che siamo noi a fare gli idealisti i moralisti mi sa che non conviene almeno per come gira il mondo alla fine come si dice no? nel vecchio testo di qualche anno fa che parlava di armi acciaio e malattie la guerra si fa perché conviene comunque oggi cito fra l'altro Cristiano Tinazzi giornalista che scrive nel suo trafiletto quando c'ero io certe cagate al messaggero non le scrivevano e quindi leggetevi voi cosa ci propone il messaggero oggi fra le altre notizie avevo accennato al reportage di Stefania Battistini e Simone Traiani che erano stati a su già arrivata la notizia che sono stati diffidati dal realizzare altri servizi che parlano della guerra i nostri partiti politici di sinistra parlano di pace disarmando l'Ucraina i partiti di destra dicono che non è il caso di inimicarsi Mosca ovvio quindi vedete un po' voi cari miei amici seduti al bar con me oggi è chiaro che lo so che fra chi si è iscritto al mio canale siamo tutte persone per bene siete tutti splendidi e meravigliosi non sto accusando nessuno oggi del resto no gli italiani sono famosi per essere brava gente eppure come devo dire essere consapevole immagino che possa renderci più forti prima o poi come si dice certe persone si sveglieranno a un certo punto altre non lo faranno mai quindi cara la mia Italia che fai affari che cresci economicamente grazie agli scambi con il Kirchikistan oggi ti presento una famiglia ucraina sono bellissimi da incorniciare proprio la classica famiglia da mettere in uno spot dove fanno colazione la mattina in stile mulino bianco Jaroslav e sua moglie Eugenia e tre bellissime figlie Iarina Tarina ed Emilia la più piccola 4 settembre 2024 e lui è l'unico ad essere sopravvissuto quindi andate a raccontarlo a lui adesso perché siete filorussi e con questo chiudo cari amici quindi non vogliatemene vi passo il link di tutti questi argomenti di economia oggi perché io non sono un economista non me ne intendo assolutamente niente neanche di politica estera e geopolitica alla fine no posso aver detto tante fesserie oggi chissà magari proprio mi sono sbagliato come ho detto siamo al bar oggi quindi posso dire qualsiasi cosa il nostro paese magari è in prima linea per stroncare l'economia russa e la sua produzione di armi e impedire che le famiglie ucraine finiscano sotto i missili russi e magari che ne so tutti i telegiornali i giornali i giornalisti italiani gli opinionisti televisivi hanno ragione che è sbagliato sostenere l'Ucraina del resto chi sono io per dire queste cose anzi fate che oggi non vi ho detto proprio niente va quindi con questo chiudo e vi lascio e come sempre un abbraccio alla prossima